Sembra uno a posto, piace a tutti, fa sport, suona. I genitori gestiscono il piatto che ride, dove lui lavora a part time. Il mio personaggio è un funzionario dei servizi segreti che ha la voglia di proteggere i supereroi caduti in disgrazia e è un momento difficile perché è in un conflitto con chi invece lo dirige e non vorrebbe che lui facesse questo. Il reset di memoria, bravo ragazzo. Ops, non è una scienza esatta, Bob. Ho visto che mi assomiglia, c'è proprio la stessa faccia un po'. Come definirei gli incredibili due? Sensazionale, divertente. Incredibile. Combustione imminente, ma che vuol dire? Ah! Vuol dire fuoco, Robert. Dal 19 settembre, gli incredibili due. Ciao! Grazie mille! Grazie a tutti.